Mi chiamo Suor Costanza e ho 87 anni nella comunità di casa madre a Botticino. Principalmente ho lavorato nella scuola materna come insegnante. Ho vissuto degli anni belli in un convito per lavoratrici a Padova di cui ho passato parecchi anni. La gioia di servire il Signore nelle lavoratrici è stata per me la più grande gioia e anche la più grande fatica perché non nascondo che le fatiche ci sono sempre ma hanno un risvolto di gioia tutte. Augurerei di saper scoprire la gioia in tutte le cose che si possono fare. C'è sempre nascosta una gioia anche nella fatica. Per chi è solo e chi è ferito, per chi vive in povertà, ora oh Signore manda a me.